Allo abbiamo votato tutti di benedetto Bene Ci siamo? Non ci siamo Ci siamo La votazione è chiusa Presenti 382 votanti 279 Astenuti 103 Maggioranza 140 A favori 278 Contrari 1 La Camera approva Ora siamo all'otto quater C'è l'emendamento della commissione Otto quater 300 Onorevole relatore Parere favorevole il governo Conforma Bene Se nessuno chiede di intervenire Otto quater 300 della commissione Con parere favorevole del relatore del governo La votazione è aperta Chi non riesce a votare Fabri Altri che non riescono a votare Chi è lassù? Brugnerotto Onorevole fusione Uno slancio Fautilli La votazione è chiusa Presenti 389 votanti 333 Astenuti 56 Maggioranza 167 Farò i 332 Contrari 1 La Camera approva Siamo all'articolo Otto quater La votazione Se nessuno chiede di intervenire La votazione è aperta Onorevole di Lello Che problema abbiamo? Onorevole di Lello La attendiamo Spadoni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti